Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha visitato questa mattina gli impianti sportivi Scandone e Pala Barbuto interessati dal restyling per le universiadi. Ho voluto vedere lo stato dei lavori di alcuni impianti sportivi che tra poco più di 100 giorni saranno il palcoscenico delle imprese agonistiche di migliaia di atleti. Ha scritto su Facebook il primo cittadino, Napoli si farà trovare pronta, come sempre lo è stata anche per la Coppa America, il Giro d'Italia, la Coppa Davis e le centinaia di iniziative che abbiamo organizzato nella nostra città. Ero accompagnato alla Scandone e al Pala Barbuto dal commissario per le universiadi Gianluca Basile, dal mio capo di gabinetto Attilio Auricchio e dalla dirigente Gea Vaccaro, oltre che dalle nostre funzionarie tecniche che seguono, bravissime, ogni passo dei lavori dei tanti impianti cittadini che stiamo ristrutturando tra problemi e ostacoli. I lavori nei due impianti di fuorigrotta procedono spediti e presto visiterò gli altri. Ho visto un ottimo avanzamento dei lavori, ha poi concluso De Magistris, con una Scandone davvero bellissima ed un Pala Barbuto che sarà molto funzionale.